Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nostro primo video, questo è il nostro canale YouTube e siamo qui oggi per presentarci. Allora, io sono Gianmarco Bollaro, magari qualcuno di voi già mi conosce. Faccio palestra da quando avevo 14 anni, ho iniziato perché venivo bullizzato a scuola e quindi piano piano ho iniziato a praticare la palestra come tantissimi giovani ragazzi. Sono un ex atleta strongman, ho fatto per 8 anni competizione di strongman, ho iniziato all'età di 18 anni e ho vinto poi negli anni due campionati italiani, ho fatto numerose gare all'estero, per esempio l'Arnold Classic, gli europei in Inghilterra, i mondiali negli Stati Uniti e tantissime altre. Ho fatto due record italiani nel 2017, poi in seguito ad un infortunio nel 2019 ho smesso con le gare di strongman e ho iniziato con le gare di man physique con la federazione Wabba. Nello stesso anno in cui ho iniziato, dopo 4-5 gare, mi sono qualificato per il Mister Universo in Messico. Sono andato in Messico e ho vinto il titolo di Mister Universo Man Physique. Sono un personal trainer e consulente alimentare, lavoro con tantissimi ragazzi a distanza per quanto riguarda il coaching online, ho tantissimi ragazzi in Italia che seguo, io adesso vivo all'estero, vivo a Dubai, in più faccio anche delle consulenze e sedute di personal dal vivo con alcuni clienti che ho qui a Dubai. Lei è la mia ragazza, Irene, e adesso vi parlerà un po' di lei. Ciao a tutti ragazzi, allora innanzitutto io mi chiamo Irene, io e Gianmarco stiamo insieme da circa 3 anni e credo che la cosa che subito ci ha accumulato di più è stata appunto la passione per lo sport. Infatti anch'io fin da piccola ho sempre fatto qualsiasi tipo di sport, li ho provati tutti, dal judo al tennis eccetera eccetera. Poi verso l'età di 14-15 anni invece ho iniziato ad appassionarmi più al mondo della moda e infatti ho fatto molti shooting fotografici, concorsi di bellezza eccetera eccetera e nello stesso periodo con l'intento appunto di migliorare fisicamente ho iniziato ad approcciarmi anche alla palestra per la prima volta. Ovviamente all'inizio come tutte le donne avevo magari paura anche della palestra e di fatti facevo soltanto i classici corsi di gruppo però poi con il passare del tempo mi sono resa conto che magari non erano la cosa migliore per migliorare fisicamente ma più per divertirsi ecco e infatti dopo ho iniziato ad approcciarmi proprio alla Sala Pesi conoscendo poi Gianmarco mi sono appassionata anch'io al mondo delle gare e di fatti nel suo stesso anno ho gareggiato come bikini sempre nella federazione UABBA mi è piaciuto molto e infatti adesso voglio continuare diciamo su questa strada in questi anni a Gianmarco abbiamo studiato molto, abbiamo preso varie qualifiche tra cui appunto quelle ovviamente di personal trainer e anche di consulenti alimentari come diceva Gianmarco e grazie a questo oggi esercitiamo la nostra professione qua a Dubai e online qua a Dubai abbiamo aperto da aprile 2021 la nostra società dove ci occupiamo appunto di coaching online e personal one to one io personalmente mi sono specializzata più nell'ambito femminile proprio per risolvere le problematiche che accomunano tutte noi donne quindi le classiche ritenzione, culotte de cheval eccetera eccetera in questi ultimi anni quindi abbiamo fatto molta esperienza quest'anno qua a Dubai, lo scorso anno siamo andati in America abbiamo avuto il piacere di confrontarci con le coach di altissimo livello e adesso siamo qua per raccontarvi anche un po' che cosa vogliamo fare insomma quali sono i nostri progetti per questo canale YouTube mi sentivo osservata ci siamo bloccati perché era arrivata la security, vai! uno dei progetti per il nostro 2022 era appunto quello di aprire un nostro canale YouTube e poter documentare le nostre giornate sia dal punto di vista lavorativo sia dal punto di vista atletico portare tantissimi video, tantissimi contenuti qui su questo canale sia per quanto riguarda me sia per quanto riguarda Irene per quanto riguarda allenamenti, alimentazione, integrazione, stile di vita, quotidianità anche le nostre future vacanze potete mostrarvi come gestiamo il tutto essendo sia dei coach sia degli atleti quindi ragazzi noi vi ringraziamo per aver visto questo video lasciateci dei commenti con dei consigli sui prossimi video che vorreste vedere in questo canale mi raccomando supportateci, iscrivetevi al canale lasciateci un like e se volete iniziate a seguirci se non lo fate già sui nostri profili social che vi lasciamo qua in descrizione ciao a tutti ragazzi ciao